bene amiche ed amici ben ritrovati a questo appuntamento con questa video intervista e oggi ho il piacere di avere una interlocutrice una grande artista un'attrice e una cantante di fama io direi internazionale ho il piacere di chiacchierare con Petra Magoni ciao Petra benvenuta ciao ciao a tutti grazie per questa intervista questa chiacchierata chiacchierata bravo senti Petra io direi di iniziare subito questa chiacchierata con con il diciamo il nuovo progetto Heroes che praticamente è uscito il 26 febbraio quindi diciamo che è un progetto nuovissimo e un tributo a David Bowie ecco ci vuoi dire qualcosa su questo progetto? Allora questo progetto nasce da una richiesta che il comune di Montsummano che è in Toscana vicino a Montecatini ha fatto a Paolo Fresu cioè di un concerto omaggio a Bowie perché questa cosa perché forse non tutti sanno che la prima apparizione di Bowie in Italia fu proprio a Montsummano nel 1969 per un concorso di voci nuove che non vinse arrivò secondo eppure aveva già fatto uscire Space Oddity era giovanissimo mi pare avesse 21 22 anni e quindi nell'occasione del cinquantesimo nel 2019 il comune di Montsummano commissionò a Paolo Fresu questo concerto e lui quindi ha chiamato me e gli altri grandissimi musicisti che fanno parte di questo progetto che vi ricordo sono Gianluca Petrella Christian Meyer Francesco Diodati e Francesco Ponticelli e mettiamo su quel concerto con pochissime prove come si fa un po' nel jazz ma quando ci siamo trovati poi a salire sul palco abbiamo avuto da subito miracolosamente un suono di gruppo anche se non avevamo mai suonato insieme quindi quella cosa ci ha colpito molto il concerto è andato molto bene anche se ci siamo accorti non essendo nessuno di noi particolarmente esperto della musica di Bowie ci siamo accorti che le canzoni di Bowie non sono poi così semplici quindi anzi sono piene di battute in più di cambi che hanno avuto necessità di essere come dire provati messi a punto però questo grande entusiasmo ci ha dato la voglia di continuare quindi avevamo già altre date in programma poi con il covid insomma si sa come è stato trattato lo spettacolo dal vivo e poi abbiamo fatto soltanto un altro concerto a Rimini l'estate scorsa e a novembre ci siamo chiusi in studio due giorni e mezzo in realtà per fare questo disco quindi abbiamo lavorato in presa diretta come come si fa solitamente nel jazz anche se questo non è propriamente un disco jazz i puristi del jazz storceranno il naso ma a noi piace la musica in generale e quindi non ci siamo fatti questo tipo di problemi non è un disco di cover in senso stretto sono reinterpretazioni abbiamo lavorato tutti ciascuno di noi ha messo delle idee negli arrangiamenti nel modo di interpretare e eseguire questi brani e anche in questo devo ringraziare Paolo perché pur essendo lui ovviamente il leader della cosa anche perché è stato lui a mettere in piedi il gruppo è stato lui a produrre il disco in realtà è una persona molto molto intelligente e molto molto generosa quindi ciascuno di noi ha avuto i suoi spazi anche proprio per dire la sua a livello di produzione artistica e quindi insomma è stato un lavoro veramente di gruppo quei giorni in studio ci hanno dato un entusiasmo enorme anche perché era fine novembre quindi eravamo senza concerti eccetera e quindi è stato bellissimo ritrovarsi e fare musica insieme ecco Petra come è stato lavorare con con il grande grande artista quale Paolo Fresu le tue impressioni eh guarda con Paolo avevamo suonato insieme una volta quasi per caso in un concerto eh che doveva essere lui e Paola Turci e io e Ferruccio Spinetti quindi musica nuda in realtà è venuto fuori un concerto tutti insieme divertentissimo è stata una unica occasione e fu a Berchidda cinque sei anni fa poi tre anni fa abbiamo fatto un concerto molto bello che abbiamo replicato anche l'estate scorsa con l'Italian Jazz Orchestra quindi fiati, archi, sezione ritmica sulle canzoni di Doris Day quindi tutte quelle canzoni che poi sono diventate dei veri e propri standards e lì ci siamo proprio trovati bene io e lui eravamo i solisti e poi c'era l'orchestra e arrangiata dal bravissimo Fabio Petretti fra l'altro eh arrangiata e diretta e quando poi gli hanno chiesto di di fare questa cosa su Bowie mi ha mi ha coinvolto e devo dire più ehm più eh collaboro con Paolo e più cresce la mia stima artistica e umana perché è una persona di una grande intelligenza di una grande curiosità questa sua voglia di suonare con tutti famosi meno famosi ma tutti bravi non parlo non so parlando in generale in realtà è da molti viene anche criticata ma io trovo un segno di grande intelligenza di curiosità di voglia di crescere perché proprio grazie al fatto di suonare con gli altri eh si cresce si cambia si imparano delle cose quindi assolutamente e senti Petra ehm parliamo adesso un po' un po' di te eh dalla musica antica al rock fino al al jazz ecco eh com'è stato interpretare generi eh così diversi tra di loro ma guarda in realtà non non mi piace ragionare per generi nella vita figuriamoci nella musica penso che eh definire i generi musicali sia una cosa che spetta ai giornalisti e serve a a quei rari negozi di dischi che ancora sopravvivono perché in realtà ci sono cose che piacciono e cose che non piacciono indipendentemente anche proprio dal genere no? eh quindi sì sono pari dalla musica antica fra l'altro nel 2019 a novembre ho fatto un concerto un concerto di musica antica dopo tantissimi anni con gli user musici di Pisa poi resta una bella sfida ehm trovo che quando poi uno ha un suo suono una sua personalità una sua visione della musica come io mi sono costruita la mia come lo stesso Paolo Fresi ha costruito il suo suono negli anni e quindi è riconoscibile poi puoi affrontare qualsiasi genere ed essere sempre che stesso assolutamente sì senti ehm il 2020 è stato un po' eh un anno di stop per molti per molti artisti eh com'è vissuto non poter fare musica dal vivo? guarda il primo lockdown l'ho vissuto anche bene perché era una cosa condivisa con tutti cioè eravamo fermi tutti artisti non artisti quindi ti senti di parte di una collettività che stava facendo delle rinunce per il bene di tutti e quindi è stata una cosa mi sono anche goduta quei mesi qui a casa con i miei figli col ho tanto terreno ho fatto l'orto ho fatto altre cose che non avevo magari mai fatto prima eh poi d'estate in realtà noi almeno come musica abbiamo ricominciato e lavorato abbastanza bene con devo dire protocolli rigidissimi sempre seguiti da tutti cosa che invece non vedevo per esempio sui treni o sugli aerei o su nelle spiagge insomma non è stato molto rispettato diciamo dai nei teatri nei luoghi dove si faceva musica devo dire che sono state veramente delle delle dei controlli molto molto rigidi e per cui ovviamente il fatto che poi venissero fermati proprio quei luoghi che in realtà non avevano avuto contagi non avevano avuto nessun tipo di problema l'ho vissuto come una grande discriminazione anche perché poi è stato chiaramente detto che non venivano chiusi per il pericolo di contagio quanto per non fare uscire la gente e questo non è bello anche perché c'è tanta gente che lavora eh nei luoghi dove si fa musica dove si fa spettacolo dove si fa cinema eccetera non solo gli artisti i tecnici e tantissime altre persone che che lavorano spesso dietro le quinte ma che sono tante e e per loro è il loro lavoro quindi non si può dire che non sia importante e in più appunto questo questo questa discriminazione questo considerare inutile un certo tipo di lavoro è ovvio che nel secondo periodo che sta durando tuttora e mi ha causato anche qualche qualche momento di di tristezza ti ogni tanto ti dici insomma tutto quello che ho fatto nella vita è inutile e per questo poi eh a volte mi hanno chiesto la domanda riguardo al a heroes perché heroes abbiamo scelto heroes come singolo perché comunque devo dire che quando ci siamo trovati in studio a registrare quella quella energia che abbiamo ritrovato lì che ci mancava tantissimo ci ha fatto sentire anche un po' un po' degli eroi perché comunque in un periodo come questo dove la musica la cultura viene trattata da come superflua in realtà è anche abbastanza eroico fare un disco come abbiamo fatto perché riteniamo che ci sia bisogno per noi che la facciamo ma anche per chi poi lo ascolta di di cose belle e impegnative come questa streaming e musica dal vivo pensi sia davvero cambiata l'idea di esibizione di un artista diciamo che lo streaming oggi come oggi è il benvenuto perché comunque permette di lavoricchiare ogni tanto quando capita ma sicuramente non è la stessa cosa e non lo sarà mai anche perché appunto il concerto non lo fa solo l'artista sul palco si fa insieme al pubblico ogni volta viene una cosa diversa almeno nel nostro settore magari nel settore proprio più strettamente pop dove c'è sempre la stessa scaletta si seguono schema ed è sempre quello poi alla fine che ci sia un pubblico un altro è uguale ma nel nostro nel nostro caso no un concerto diventa un'altra cosa a seconda di chi ti trovi di fronte quindi se non è di fronte nessuno ovviamente non può venire lo stesso tipo di concerto diventa una cosa un po' più asettica ho provato qualche volta ho provato anche a interessarmi molto a questa cosa quando l'ho fatto ho provato veramente a pensare che dietro queste telecamere ci sono effettivamente delle persone però insomma non è proprio la stessa cosa è la stessa cosa e diciamo durante la tua vita artistica hai collaborato con con importanti i nomi per citarne qualcuno mario biondi pensi ad altre future collaborazioni cioè hai già qualcosa in mente ma guarda c'è un sacco di cose in ballo in questo periodo oltre ovviamente al mio progetto principale che è musica nuda con cui abbiamo appena compiuto 18 anni e anche per questo stiamo preparando un disco per bambini che è già a buon punto ho un disco in uscita con Ilaria Fantin all'Arciliuto dove però non facciamo un repertorio di musica antica ma anzi suoniamo da che ne so da De Andrè a Irony Stones però con questo strumento appunto rinascimentale che è l'Arciliuto con lei ho già fatto diverse cose al vivo facciamo un spettacolo che si chiama Le Nuvole e abbiamo lavorato io e lei insieme a Pippo Del Bono in un altro spettacolo che si chiama Il Sangue e quindi poi questo disco che in realtà è stato registrato più di un anno fa però poi appunto sempre per motivi covid uscirà pure appena possibile perché anche le fabbriche di CD hanno avuto diversi stop soprattutto dovuti a contagi a quanto ne so poi ho un progetto con Finaz chitarrista della banda Bardot nel 2019 abbiamo fatto tre concerti sono per la maggior parte pezzi nostri contesti spesso tratti da autori diciamo del periodo futurista tipo Marinetti o Achille Campanile eccetera quindi è un progetto che si ha equilibrismi e anche questa è una cosa che mi porterà ci porterà in studio a breve Hai parlato prima di musica nuda come nasce l'idea di musica nuda e soprattutto la collaborazione con Ferruccio Spinetti Non è nata un'idea è nato un incontro ci siamo incontrati su un palco durante una specie di jam session e lui ha cominciato a accennare Roxanne io ho cominciato a cantarla e l'abbiamo suonata così in duo ci siamo detti che bello magari un giorno faremo qualcosa insieme e dopo qualche settimana io dovevo fare una serata ma in un'eloteca con un chitarrista che si è ammalato ma in quel periodo perdere anche insomma quei due spiccioli che prendevo insomma mi pesava quindi ho chiamato Ferruccio che abitava lì vicino e è venuto e non ho mai più suonato con quel chitarrista da lì poi noi eravamo entusiasti già quel primo concerto acustico fra i tavoli entusiasmò tantissimo il pubblico però mai ci saremmo immaginati di arrivare a fare le cose che abbiamo fatto di passare nei teatri di Mosca o di Buenos Aires ora 2019 siamo stati in California abbiamo avuto un tour bellissimo lì, siamo stati a Vienna, siamo stati un po' dappertutto da Tunisia, Istanbul, abbiamo suonato con l'orchestra sinfonica di Istanbul cioè cose che quando ci siamo incontrati sicuramente non erano neanche nei nostri sogni però diciamo che è un progetto ancora molto molto vivo e che comunque vi rende abbastanza uniti ecco perché comunque diciamo che c'è una bella simbiosi mettiamola così dal punto di vista artistico quello che dico io per me suonare con Ferruccio è come stare in pigiama sul divano di casa ecco è una cosa talmente comoda ormai ma è sempre stato così cioè l'inchiesa è talmente naturale che appunto è come stare in pigiama sul divano Passiamo alla Petra attrice intanto come vedi il teatro dal tuo punto di vista? Chiuso, adesso lo vedo chiuso A parte la struttura in cia E come lo vedo la direttrice è troppo ci sono fior fior di attori quindi figurati mi diletto, mi diletto Ma anche tanto bene, dai Beh insomma, per esempio è stata un'esperienza incredibile fare il film con l'orchestra di Piazza Vittorio con cui fra l'altro abbiamo preso anche con David Donatello l'edizione 2020 David, anzi scusa, no David, David e lì facevo la regina della notte quindi è stato molto molto divertente come cosa, è una specie del primo musical etnico diciamo della storia multietnico della storia e è stata una cosa incredibile poi anche lì questa cosa purtroppo questo premio è stato dato ovviamente a porte chiuse in streaming quindi anche lì non ci siamo neanche potuti godere a pieno questa vittoria che fra l'altro è stata data come miglior musicista a tutta l'orchestra quindi è divertente anche questo no e quando capita di fare cose per esempio che nel progetto con Finans in realtà non canto e basta cioè questi testi dei futuristi vengono anche un po' recitati cioè c'è tutta una componente un po' diversa un po' diversa da quello che faccio con Musica Nuda ecco non è una replica di Musica Nuda assolutamente sei stata protagonista del Don Giovanni come vivi questa esperienza? me l'ero scordata quando mi hai dato attrice non mi era venuta in mente ecco quella è stata una bella sfida è stata una bella sfida perché mentre la regina della notte ha delle aree talmente virtuosistiche talmente difficili che vinci con quelle cioè non hai bisogno di fare molto mentre dal punto di vista attuale è più o meno sempre la stessa cosa è sempre arrabbiata è sempre Enrique Strill e quindi è abbastanza facile da interpretare Don Giovanni visto che io facevo appunto Don Giovanni è molto più complesso molto più complesso e non ha chissà non ha aree appunto così dirompenti come la regina della notte quindi il lavoro è stato molto molto più complesso e anche molto emotivamente difficile per me perché poi ogni sera affronti la morte la morte che arriva pentiti no pentiti no quindi insomma era un è stata una bellissima esperienza la rifarei subito anzi mi manca tantissimo quello spettacolo però non è stato semplice quindi quando poi ti trovi di fronte a una sfida nuova è ovvio che che in realtà è stimolante infatti è quello che poi manca in questi momenti qui dove siamo qui così senti Petra per concludere cosa 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 si augura Petra nell'imbinente futuro cosa auguro a me sì beh a me auguro quello che auguro a tutti i musicisti a tutti quelli che operano il settore culturale di riprenderci la nostra importanza la nostra importanza il nostro dovere la nostra missione anche di artisti le nostre responsabilità di non sentirci inutili perché un mondo senza arte e senza cultura è un mondo di morti viventi bene io direi con questo appello finale di concludere questa questa bella chiacchierata con Petra Magoni io ti ringrazio per la tua cortese disponibilità e speriamo di ritrovarci anzi te sul palco perché abbiamo veramente bisogno di avere il contatto con gli artisti perché ci manca tanto e noi di nuovo di riempire le sale dei teatri perché la cultura spesso viene messa un po' da parte e io credo che la cultura sia la linfa vitale che fa andare tutto il paese verso altri obiettivi grazie Petra soprattutto un paese come il nostro come l'Italia dovremmo essere orgogliosi di tutta la nostra cultura che viene da lontano e deve andare lontano ecco ti saluto per questo per questo il tuo appello vale ancora di più ti saluto ti ringrazio saluto tutti grazie grazie Petra d'estate dovrebbe dovrebbe andare tutto meglio dai speriamo un abbraccio in bocca al lupo ciao 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 ciao